Musica Cari amici, ben trovati. Questa è l'ultima settimana di quaresma, poi è la Pasqua del Signor Risorto. Premo, vi sarai pensieri e avvisi del parroco Padre Zvan. Poi avvisi il video del ritiro del parroco Padre Zvan a quaresma. In questa domanda vinciamo a marzo. A ritiro, vi sarai pensieri di un sauro. Questo è tutto per la settimana. Avvi ricordato che sui siti internet www.telosservenza.it puoi trovare tutti i servizi di domenica. Grazie dunque, buona quaresma e pesa e ben matotto. Carissimi amici, ben trovati in questa ultima settimana di quaresma che ci porterà diretti alla Pasqua del Signore Risorto e di tutti noi. Vi presentiamo dapprima la meditazione e gli avvisi del parroco Padre Giovanni. Quindi vi proponiamo le riprese del ritiro parrochial di quaresma vissuto domenica 21 marzo nel pomeriggio con la guida di Don Sauro, parroco di San Domenico. Ci sono stati tanti spunti interessanti durante il ritiro che possono aiutarci a vivere al meglio quest'ultima parte di quaresma. Con questo è tutto per la settimana. Vi ricordiamo sempre che sul sito internet www.telosservenza.it sono archiviati in permanenza tutti i servizi delle puntate precedenti e di quelli che vedete ora in televisione, nel caso vogliate rivederli. Grazie dunque per l'attenzione. Buona quaresma e pace a bene a tutti. Grazie.